Presidente Pagano, quest'oggi all'Aquila c'è stata la visita della Commissione Nazionale dell'Ana per l'assegnazione all'Aquila della donata del 2014. Sì, è una bella soddisfazione. Tra l'altro è capitato che questa Commissione che dovrà giudicare se l'Aquila possa essere la sede per la donata nazionale degli Alpini dell'anno 2014, proprio nel giorno in cui il Consiglio regionale si riunisce per discutere tra l'altro anche del disegno di legge che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha predisposto proprio per candidare l'Aquila come luogo per la donata nazionale degli Alpini per l'anno 2014. Quindi questa contestualità speriamo possa essere foriera naturalmente di accoglimento da parte della Commissione giudicatrice anche perché sappiamo che c'è anche Pordenone che è un'altra città che si è candidata. Ma noi pensiamo di avere tutti i requisiti per poter vincere questa competizione perché pensiamo che l'Abruzzo intero, ovviamente la città dell'Aquila da capologo di regione, possa rappresentare nel migliore dei modi proprio i colori della nostra bandiera, in particolare le penne degli Alpini. Già anni fa a Pescara fu ottenuta una donata che ebbe un clamoroso successo, 300.000 Alpini, alpini naturalmente familiari degli Alpini, vennero a Pescara per un successo straordinario che ancora si rammenta nella città di Pescara. Noi pensiamo che l'Aquila possa persino essere teatro di un successo maggiore e riteniamo che possa essere un'opportunità per il rilancio della città e dell'Abruzzo che non può essere dimenticato ma soprattutto che non può sfuggirci.